Eccellenza, un augurio ai fedeli della Diocesi di Faenza e Modigliana. L'augurio proprio di essere presi dalla rivoluzione della tenerezza che porta Gesù Cristo nel nostro mondo e nelle nostre vite. Il mondo oggi ha particolarmente bisogno dell'amore di Dio, quell'amore che viene donato a noi e che fa sì che sia sempre con noi perché Gesù che nasce è Dio che rimane con noi, cammina con noi, resta con noi perché possiamo realmente, accogliendolo, trasfigurare pensieri, sentimenti, stili di vita in modo da essere come Lui, luce per gli altri.